buongiorno buona epifania a tutte buone buone calzette e si è arrivata anche da noi la befana decisamente è arrivata decisamente con tanto di pacco semi aperto si vede che era di corsa e l'ha lanciato sul cavo è stata una super befana e poi direi che si è mangiata anche il cioccolatino che gli ha lasciato fede gli ha scritto anche grazie federico befana e ha strappato un pezzo discotex nostro cioè rendiamoci conto e ha pensato proprio a tutti a ricky a fede adale e annala e va stessimo curiosi ma cos'è la pazza o con la uova lcci le forbici che è meglio i mini marshmallow, questi sono ideali per la cioccolata calda si eh, lo sapevo tu non mi ascolti questo cos'è? ah c'è un mini puzzle ah che carino è piccolo una caramella buono questo il ciocco riso, lo davano sempre a me a scuola ah si? è buonissimo vabbè adesso si chiama riso e ciocco di maschers e altre caramelline è qui è qui, è vuota e abbiamo un puzzle mettiamo qua tutti i giochini un ultra 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 mini puzzle poi spider man sempre mio ovviamente Federico eh già no ok e poi mi ha portato i succhi perché domani e sa che inizi la scuola, vedi? bello che bravo cosa? oh e per la trottola, questo qua, la infili qua, si toglie? e rotola rotola ma cos'è? ma cos'è? patatine leggi palline di cereali buone queste me le mangio al mattino e questo cos'è? questo è scritto buone feste ah i biscottini e lasciali lì allora i pacchettini di biscottini a chi vuole vedere sono questi qua che strano ma cos'è? dolphin no lolli polaretti di polaretti morbidi stick di frutta pronti da gustare miniatura un po' più piccolini per quest'estate ecco perché erano un po' moglie arricchi la sua vediamo un po' cosa c'è dentro c'è di aprire le due volte calza delle faccine sì in realtà c'è anche per nola infatti è qui che sto sfermendo potremmo darle un biscottino il bis croc e poi aiuto non c'è che c'è un chino finca strano un doppio cane praticamente un doggy doggy un doggy doggy nola c'è biscottini anche per te la Befana ha pensato anche a te quest'anno pure una cerniera cioè proprio una super calza ultra ultra vera calza madonna mia ragazza è complicata questa calza proprio suspense suspense a tutti gli effetti già già soprattutto difficile da aprire ma no tira un po' un pezzettino alla volta cos'è? oh le fremuccio per la mia colazione dai al cioccolato altri marshmallow altri marshmallow per la cioccolata anche per te ah sei stato monello anche tu non è vero eh sì ti ha portato il carbone nala ok forse è vero qualche volta sì ecco cos'è? ah dai pola pola polaretti cos'è? ah delle mini caramelle le caramelle ah ah quelle sono proprio dai poi poi caramella caramella sì questa sarebbe la maxi sorpresa questo sarebbe cos'è? come me ah un'altra cosa ancora come i polaretti eh già quanti dolcini? oh ma ah ce n'è due una sorpresa cos'è cos'è? cos'è cos'è cos'è? cos'è? portachiavi due spille ah carine e una c'è la scimmietta eh che carina non parlo vedi è proprio quella del momento giusto non può parlare cioè ha poca voce e poi e poi l'altra ah un'altra spilletta che carina bella oggi ci vado al lavoro con le spillette le spillette emoji sul lavoro questa mi sa che è mia però gliela no non c'è scritto niente ah hai ragione allora vabbè anche se era mia te la cedo ma sei mia? se vuoi io con tutte ste calze anche se me le doni una tirchio di figlio aspetta 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 no rompi le calze piano anche perché queste le puoi usare sì sì sono proprio calze calze oh cosa qui c'è una calza vuota eh sì e l'altro piede è una è piena ok ok carbone aia altro che mamma mia che bello ma è un panino questo ah no spiro sembrava un panino fatto di caramella poi c'è i toffi c'è la caramella frizza la coca cola sì mamma altre toffi e questa collana di caramelle ma è una collana ma no tipo sì sembra no guarda giù bello e anche le calze antiscivolo che forte è una collana di caramelle sai direi che un gioiello del genere va donato no è mio è egoista dono la mamma c'è una collana è una femminuccia va da mangiare appunto ma mamma non ha niente eh vabbè bravo ok le piace allora stamattina abbiamo cucù c'è anche bubi aperto le calze stamattina tranne quella di Ale perché non ce l'abbiamo fatta l'apriremo stasera quando torna anche il papà e poi e poi sto per fare un ordine mcdonald perché farò un mcbang oggi per pranzo per la vostra gioia un mcbang mcdonald che è il vostro preferito in assoluto e pensavo di farvi anche poi una storia su instagram per chiedervi di cosa parlare perché non penso che sarò da sola cioè in effetti mi sento un po' osservata ma non so come al solito lei compare così ragazze lei compare sempre così a sorpresa ciao come state tutto bene eccomi di nuovo a rompere le scale mia amica Romi a me fa piacere anche perché aspetta chiamoci bene anche perché oggi ero da sola Fede è con suo padre Ricky è a lavoro il suo Fabio è a lavoro e sono qui con Bubi e quindi abbiamo detto ma sì facciamo un mcbang mcdonald non è che piomba qua così a caso cioè lei mi porta anche dei pensierini quando arriva mostriamo i pensierini che cioè poi stasera tra l'altro ce n'eremo anche tutti insieme con Fabio e Ricchi perché allora i pensierini intanto è la carta da sedere che veramente grazie perché avevo finito poi mi ha portato un sacco di patate perché stasera faremo il cotechino e ha portato anche due cotechini cioè lei viene ma neanche si fa invitare io gli ho regalato una crema insomma facciamo degli scambi un po' strani carta igienica creme patate cotechini cos'è utile dai ragazze quindi lei viene cioè io l'unica cosa riesco a offrire sono le ciabatte per stare comoda perché ha portato mi offre la tua patatizia che è tanta roba ha portato la cena ha portato la carta igienica pure quindi si dobbiamo dare con tutto l'aiuto che mi sta dando roba e guarda al minimo guardate tutto il minimo beh ma Elena se fossero tutte così poi l'amicizia a prescindere da tutto uno si aiuta nei momenti belli beh certo ah no aspetta ho dimenticato pure che ha portato delle caramelle per Federico cioè tutto tutto proprio top l'amica promossa bravissime ragazzi l'amica promossa comunque adesso vando alle ciance come dico sempre io abbiamo fatto un ordine McDonald's che ci tenevamo particolarmente a farvi vedere proprio proprio un ordine da porche cioè veramente facciamo schifo però c'ho una fame lo stomaco che mi bronza non so te anche te ma sono le due perché tra una cosa negli ultimi giorni io sto mangiando sempre le due due qualcosa facciamo una merenda un pranzo merenda ma poi ragazzi tutto quello che abbiamo preso cioè non ci siamo fatte mancare nulla no infatti è proprio festa della Befana siamo due vecchie ciabatte come dico sempre siamo sola almeno no ti ricoccoliamo un po' oddio non è che mi ah no no si oddio rimettete partito l'ordine no te l'ha cancellato no e non c'è più oddio mio no dobbiamo rimettere tutto mamma scusa ma non l'ho mica chiusa l'applicazione scusate un attimo un attimo di eccitazione allora abbiamo preso un Big Mac un gran mac chicken e voilà 9 9 McNuggets 2 McFlurry schifo basta ok anche perché nel menu c'è anche le patatine quindi va già bene ragazzi e poi cosa mangiate verrà un McBank non da poco no questo è un bel McBank ovviamente farò un video a parte questo è il vlog però adesso tra un po' inizia anche lei un vloghino però faremo parti diverse così non vedete due video identici però e tu magari potresti filmare più la parte di stasera sì tipo quando facciamo poi quando facciamo insieme il cotechino il purè arrivano Fabio Ricchi insomma così sono un po' diversi vabbè a dopo aspettiamo l'ordine qui c'è Bubi che ogni volta che vedo la videocamera capisce più niente vista come fa qui c'è sempre l'amore e qua c'è il nostro super caffè pausa caffè pausa caffè un po' buio sta vedendo sempre è sempre più buio però ormai niente male sto caffettino buona sì l'ha preso Ricchi non mi ricordo più qual è ma ve lo faccio vedere Bubi 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 espresso Milano elegante Colombia Honduras e Brazil uh è Vietnam molto molto buono davvero mi piace patate a bollire per fare il purè di patate e tra un po' mettiamo sull'acqua anche per il cotechino e basta poi ci siamo insomma 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 un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti